Sì, sono Giuliano Tenerico, pescarese, cantautor, operatore all'occorrenza, operaio per sopravvivenza. Lucy in the Sky with Diamonds e The Beatles. Appena l'ho ascoltata, non che avessi in mente di fare il musicista, però avevo intenzione di cominciare a suonare dopo che ho iniziato a ascoltare The Beatles. Beh, essenzialmente io metodi non ne ho mai seguiti, non ho mai preteso di sedermi al tavolino a scrivere. E' successo, in un periodo venenero a scrivere. Poi mi sono adagiato sull'ispirazione, se arrivava, arrivava. Poi subentrano altre meccaniche, jot metrici, e quindi tutto un discorso come una pallina del flipper che rimbalza da un elemento all'altro del gioco. Il primo l'ho fatto nel 95, ne eravamo in tre, chitarra, organo e batteria. E l'ultimo l'ho fatto alle Canarie il 20 giugno di quest'anno. Sono due esperienze diverse, due momenti comunque di intimità differente. Nel live si crea intimità anche col pubblico, c'è interazione. Il studio invece è come una preghiera personale, raccogliersi un po' in se stessi. Non credo a nessuno, sono canzoni ispirate da qualcuno ma dedicata a qualcuno non credo. Per quanto riguarda il momento. Per quanto riguarda una ragazzione delle prodotti,